c'è quest'articolo di fstoppers.com che parla di quali sono le migliori fotocamere se si è ricchi è un argomento molto interessante perché spesso noi ci troviamo a desiderare delle fotocamere che non possiamo avere questo è capitato credo al 99 per cento dei fotografi professionisti e amatori l'articolo di fstoppers elenca alcune macchine fotografiche di cui soltanto una è una fotocamera full frame tutte le altre sono medio formato e sono delle fotocamere di marche che possiamo immaginare leica asseblad phase one e nel mezzo c'è anche una fujifilm gfx 100 nonostante io stimi molto fstoppers.com qua mi sembra che hanno mancato il punto della questione cioè le fotocamere per ricchi secondo me non sono le fotocamere medio formato perché le fotocamere medio formato sono nella maggior parte dei casi degli strumenti di lavoro è difficile che un amatore che un ricco che vuole la fotocamera si compra una medio formato per sfoggiarle in giro o per il gusto di possederla cioè in realtà secondo me l'unica macchina per veri ricchi è la leica perché non ha sulla carta almeno nessun reale vantaggio sul competitor full frame e quindi la compro anche per vantarmi cioè lenni kravitz non c'ha la fujifilm gfx 100 lenni kravitz non c'ha la phase one da 150 megapixel lenni kravitz non c'ha la hustle blood o quantomeno se ce l'ha la tiene a casa ma si fa fotografare con la sua leica al collo gli hanno fatto anche una leica dedicata per esempio lenni kravitz questo è un classico esempio di atteggiamento da ricchi cioè tu hai la fotocamera si ci fai le foto magari sei anche bravo come lenni kravitz che effettivamente anche bravo a fotografare un bravo fotografo ma principalmente le stesse cose le potresti fare con una fuji aps le fai con una leica perché è anche uno stato simbolo perché te la puoi permettere i reali vantaggi della leica rispetto a qualsiasi altra macchina simile sono relativi allora parliamo chiunque abbia una leica è convinto che la leica sia superiore a qualsiasi altro sistema la leica diciamo che è una macchina minimalista in cui il fotografo viene portato a concentrarsi soltanto sull'atto dello scatto fotografico tralasciando tutto il resto nell'eleica digitali noi troviamo quattro pulsantini sul retro non di più perché nella logica della progettazione dell'eleica c'è al primo posto l'esperienza d'uso che deve essere focalizzata al 100% sull'atto di mirare e di scattare questa esperienza d'uso ridotta all'osso in realtà ha molto da insegnare a tantissimi brand diciamo che tutti i brand dovrebbero imparare qualcosa da leica e andare a semplificare l'esperienza di scatto il più possibile magari sacrificando qualche diavoleria tecnologica ricapitolando secondo me le macchine medio formato non sono beni di lusso per ricchi perché sono principalmente degli strumenti di lavoro l'unica vera macchina di lusso tra quelle prese in esame devstoppers.com è la leica perché è uno status symbol qualcosa di cui vantarsi con gli amici per fare il figo costa tanti soldi e sulla carta non ha nessun reale vantaggio sulla competitor quindi il perfetto oggetto per ricchi spreconi guarda caso però la leica è anche la macchina perfetta perché è quella in cui l'esperienza di utilizzo è portata ai massimi livelli i ricchi però spesso non lo sanno